E da Nocera Inferiore alla Cina il talento di Achille del Giudice sbanca, del Giudice si è fatto apprezzare e non poco all'Opera House di Guangzhou, terza città cinese più popolosa con più di 15 milioni di abitanti nel cantone della provincia di Guangdong. Achille del Giudice nasce a Nocera Inferiore e si avvicina molto precocemente al mondo della musica e dello spettacolo, esibendosi in pubblico in tenere età, soprattutto nelle cerimonie religiose dirette dal maestro padre Enrico Bondon. Successivamente vince all'età di 11 anni il primo concorso canoro organizzato dalla Scuola Media Genovesi sotto la guida del professor Villani. Insegna canto e discipline musicali presso l'Accademia Musicale Mediterranea di Angri. Grazie.